Mi avete conosciuto cattivo? D'ora in poi sarò cattivissimo. Vi siete abituati ai quiz dove per rispondere vi danno anche 20 minuti. Io vi darò soltanto pochi secondi. Pensate di sapere tutto su quiz televisivi. Io vi mostrerò qualcosa che non avete mai visto. Anello Debole. Il reality quiz più conosciuto nel mondo. Da lunedì ore 19.58 Italia 1.